Una verifica del grado di condivisione e gradimento con tutti gli attori economici e sociali del territorio, l'occasione per raccogliere suggerimenti, idee e proposte con la strategia del piano. Si è insediato questa mattina presso la sala bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino, sede della provincia di Salerno, il partenariato socio-economico del Master Plan, il programma integrato di valorizzazione del litorale Salerno Sud. Quattro i laboratori del percorso che seguiranno l'avvio dei lavori di questa mattina che contribuiranno alla costruzione del programma integrato di valorizzazione per il litorale Salerno Sud. I sindaci dei comuni di Agropoli, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio Pestum, Castellabate, Eboli, Ponte Cagnano, Faiano e Salerno e tanti altri soggetti interessati al partenariato hanno partecipato ai lavori di questa mattina a Palazzo Sant'Agostino dove si sono registrati gli interventi del presidente del partenariato regionale Bruno Cesario di Franco Alfieri, delegato del presidente della giunta regionale per il Master Plan, dell'assessore al governo del territorio, l'architetto Bruno Discepolo. Il progetto procede, posso comunicarvi anche ufficialmente che l'altro giorno in giunta abbiamo approvato il preliminare del Master Plan che era stato anticipato e presentato come ricordava lei già nella iniziativa di Pestum. Oggi diamo l'avvio a un'ulteriore fase che ci porterà nel processo di elaborazione e di redazione di questo programma integrato di valorizzazione con tutta la fase prevista di ascolto, di partecipazione, di dibattito e di condivisione con il territorio, con gli stakeholder, con tutti i soggetti portatori di interesse con i quali dobbiamo condividere le proposte che sono state formulate all'interno del preliminare e giungere in tempi rapidi a un'ipotesi di programma integrato da poter approvare auspicabilmente entro quest'estate rispondendo pienamente a quello che era il cronoprogramma e il ruolino di marcia che ci siamo dati. Innanzitutto oggi è una giornata importante perché è stato approvato dall'Aggiunta regionale il preliminare del Master Plan quindi la politica offre un'idea, una visione di quello che è un territorio importante dove ci sono tante risorse ma ci sono anche tante complicazioni e quindi oggi offriamo un lavoro, una visione sulla quale vogliamo altre idee, vogliamo migliorarlo e soprattutto vogliamo ascoltare anche se ci sono delle critiche. Però la politica non arriva con un tema a piacere come generalmente a volte avviene, allora che cosa dobbiamo fare? Abbiamo le idee chiare e soprattutto abbiamo raccolto quanto si sta facendo di positivo e quanti interventi anche sostanziali, importanti sulla mobilità, sui trasporti. Un piano che mira il rilancio del litorale della costa sud, più volte campagne di battaglia e anche politiche dei sindaci, questa volta tutti insieme si punta ad avere un risultato soprattutto sul piano turistico ed economico. Ma certamente quando le questioni sono soltanto enunciate, si fanno i convegni, se ne parla, ma non c'è uno strumento adeguato, capace di affrontare problemi che non afferiscono soltanto una municipalità. Oggi abbiamo uno strumento condiviso dove c'è innanzitutto un comitato istituzionale di cui fanno parte gli otto comuni, la provincia, la regione che ha una grande regia e soprattutto può assumere degli impegni anche dal punto di vista finanziario e può dettare le priorità. Oggi c'è lo strumento rispetto al passato dove c'era la lamentazione giusta, legittima, ma oggi non solo c'è la rivendicazione rispetto agli interventi, ma c'è una pianificazione, c'è una visione e soprattutto c'è una responsabilità comune che ci fa assumere impegni concreti.